Ragazzi ma voi avete capito che se mi comprate questo amplificatore nuovo scontato io vi regalo una coppia di queste clips bellissime e in più ci aggiungo 5 metri di cavo sciolto E finalmente ecco l'attesissima promo per i Black Friday Quest'anno abbiamo pensato a qualcosa nella fascia entry level per dare la possibilità a tutti, ma davvero a tutti di entrare nel mondo dell'iFi con dei prodotti nuovi sigillati con due anni di garanzia italiana spendendo davvero pochissimo Sono diventato proprio un televenditore ormai Io non voglio che ragionate così, almeno non nelle mie trasmissioni Abbiamo l'Advance XE50BT, è sempre stato il nostro cavallo di battaglia del nostro negozio amplificatore da 50W per canale con il Bluetooth integrato, 490€ Io al prezzo di questo prodotto, che è già un prezzo scontato rispetto ai 650€ di listino vi regalo una coppia di Klipsch R41M Nuove sigillate, tutte con garanzia italiana Oltre a questo vi aggiungo 5 metri di cavo L14 audio costruzioni e faccio una cosa pazza ve li sconto ancora di più per un prezzo finale di 420€ Ma andiamo ragazzi a vedere i prodotti Partiamo dal 50, l'amplificatore, che è uno dei nostri cavalli di battaglia L'Advance sicuramente, magari per chi non è così addentrato nel mondo dell'iFi conoscerà il famosissimo A10 Questo è il piccolino, l'E3 Level del marchio francese Un ampli molto molto bello, dalla timbrica calda ambrata E soprattutto ragazzi, questo prezzo, questo pianto perfetto che voi potete mettere sia come primo impianto, sia in una seconda casa al mare sia, che ne so, in una seconda stanza Cioè, questo davvero è un impianto che potete farci quello che volete Diffusori invece abbiamo un marchio assolutamente primario nel mondo dell'iFi Ragazzi, in regalo Cioè, voi avete capito bene la parola in regalo Che non la pagate, cioè, questo davvero è incredibile Se andate a vedere su internet, questi diffusori hanno un valore commerciale Anche su Amazon, il più forte e-commerce del mondo Di 250€ In regalo, direi, niente niente male Ovviamente non hanno delle dimensioni super Ma iniziano a suonare davvero davvero bene Guardate che carina La Klipsch 41 Woofer da 10 E il Twitter caricato a tromba Quanto durerà questa promozione? Ragazzi, la promozione va a esaurimento scorta Abbiamo 50 pezzi disponibili Quelli sono, quindi potete già da adesso andare ad acquistare sul nostro sito Dopo magari parliamo di come si fa ad acquistare sul nostro sito Da cosa è nata l'esigenza di questa promozione? Da tutti i commenti, da tutte le persone che ci dicono di fare anche dei prodotti Di sponsorizzare dei prodotti Per chi inizia per fare entrare sempre più gente in questo mondo dell'iFi Guardate che belli questi diffusori con la loro copertina E qui c'è davvenuto davvero incontro il distributore MP Elettroniche Visto che condividiamo le stesse volontà E qui senza di loro questa cosa non sarebbe potuta essere fatta Quindi grazie mille a tutto lo staff di MP E abbiamo questo bellissimo impianto per iniziare Col bluetooth e il cavo in omaggio Cosa vi arriva quando acquistate questo box con amplificatore, diffusori e cavo in omaggio? Beh intanto abbiamo l'amplificatore, ve lo faccio vedere Posteriormente abbiamo la possibilità di collegare una coppia di diffusori È un ampli molto completo perché se abbiamo il giradischi possiamo andare a collegare il giradischi Ma possiamo partire oltre che con le sorgenti classiche Quindi CD, tuner, aux o qualsiasi sorgente classica che volete Possiamo partire semplicemente con il bluetooth Abbiamo l'antennina che basta avvitarla E poi siamo pronti per mandare la musica dal nostro telefonino o iPad all'amplificatore Abbiamo anche una pennettina USB In confezione abbiamo 5 metri di cavo Questo ve lo tagliate voi Fate voi la dimensione Lo tagliate Di solito vi faccio vedere come si fa così non abbiamo domande Tagliamo a metà Il cavo si incide Si spella in questo modo Vedete Così Tac Uno E due E poi ovviamente questi diffusori ma anche l'amplificatore accettano già il cavo spellato Basta svitare il connettore e troviamo un forellino in cui va inserito il nostro cavo E poi ghigliottinato Stessa cosa per i diffusori I diffusori hanno lo sfogo reflex nella parte posteriore Cosa interessante Amplificatore da 50 watt Viene consigliato per l'appunto un amplificatore da 50 watt Anche dai progettisti dei diffusori In dotazione troviamo il telecomando che è comodo Abbiamo la possibilità intanto di regolare bassi e alti direttamente dal telecomando Che risulta comodo Così possiamo andare ad equalizzare se un brano ha pochi bassi, molti bassi Con questo andiamo ad equalizzarlo molto comodamente E poi come abbiamo detto l'amplificatore è già pronto per suonare così com'è Se avete un giradischi secondario potete collegarglielo, se avete già un lettore cd potete tranquillamente collegarglielo Ma noi possiamo andare semplicemente a mandargli della musica attraverso il bluetooth È molto comodo, possiamo sia regolare dal pumellone centrale che tra l'altro ha questa bellissima banda illuminata Molto elegante per essere un amplificatore entry level da questo prezzo Noi semplicemente andiamo su bluetooth e con il nostro telefono andiamo a cercare i dispositivi Qui mi fa la ricerca, vediamo se me lo trova Eccolo qui, andiamo a cliccare e lui in automatico, ecco avete sentito, si è già connesso E noi siamo pronti per mandare la nostra musica I diffusori sono Klipsch R41M, un diffusore che commercialmente ha un valore di 250€ Il marchio è assolutamente primario e riprende le stesse tecnologie E diffusori di più alta gamma, woofer da 10 con, bellissimo questo, il rivestimento cera metallico di colore bronzo Se siete appassionati di serie tv e guardate suiz, Harvey Specter nel suo studio milionario ha proprio delle Klipsch Con questa forma E abbiamo il twitter caricato a tromba con la tecnologia Tractrix Un setup che davvero suona molto molto bene Sicuramente se lo paragoniamo rispetto alle casse bluetooth siamo a un livello molto molto più alto allo stesso prezzo Ora ragazzi vi faccio vedere come acquistare questi prodotti che sono acquistabili solamente tramite il nostro sito o qui in negozio Fino esaurimento scorte, occhio ragazzi perché 50 pezzi sono davvero pochi e quelli abbiamo di più no Noi andiamo sul prodotto selezionato, in questo caso avremo, qui vi faccio vedere con le Warfare dei Laura 2 Ma noi avremo ovviamente il banner dedicato al Black Friday dedicato a questa promozione Andiamo a selezionare il prodotto, facciamo aggiungi al carrello, visualizza il carrello E qui abbiamo la possibilità o di venire a ritirare in sede, quindi vi scala le spedizioni di spedizione O di fare una spedizione verso casa vostra Andiamo alla cassa, così vi faccio vedere i metodi di pagamento Qui andiamo a compilare con tutti i dettagli di fatturazione e di spedizione Come facciamo per acquistare? Carta di pagamento, quindi possiamo usare prepagata, banco, matto, carta di credito O altrimenti bonifico bancario Voi vi assicurate il prodotto, vi arriva per mail l'Iban, i dettagli per inviare il pagamento E abbiamo 24 ore dall'invio dell'ordine per inviare il pagamento per annullamento Se abbiamo Apple Pay o Google Pay possiamo usare anche questi servizi Una volta accettati i termini e condizioni possiamo effettuare il nostro ordine Vi faccio sentire come suona questo impiantino Ovviamente abbiamo le caratteristiche di Advance e di Klipsch tutto in piccolo Abbiamo il calore di Advance, quindi un basso bello pronunciato Rispetto al diffusore che ha un woofer che ovviamente non è di dimensioni enormi E soprattutto sono molto 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 belle le voci Grazie al Twitter caricato a tromba con la tecnologia Tractrix Ma vi faccio sentire un pezzettino Non so cosa si riesca a sentire da casa ma devo dire che non è per niente male Io ragazzi non voglio mettervi fretta ma considerate che nella scorsa promozione con le Sonus Faber Dove lo scontrino medio era 3.500 euro ne abbiamo vendute 50 coppie in un weekend Quindi vedete voi se volete fare l'acquisto E come abbiamo detto l'unico modo per effettuare l'acquisto è attraverso il nostro sito web Quindi non mandateci mail, non chiedeteci permute, non chiedeteci finanziamenti Perché in questo caso purtroppo non possiamo farle Perché voi avrete capito che siamo risicatissimi sul prezzo Questo è più un servizio che abbiamo insieme ad MP deciso di dare ai clienti Per dare la possibilità anche magari a chi non vuole investire tanto nel mondo dell'iFi Di avere il primo impiantino a prezzi molto interessanti Voi capite che fare dei business del genere per noi è più una cosa di passione Per far e appassionare più persone che il riscontro Perché ragazzi regalare una coppia di diffusori così ci rimane un margine davvero risicatissimo 50 pezzi li trovate sul nostro sito con la possibilità Ovviamente di essere spediti a casa vostra con garanzia e assicurazione Potete acquistarli sul sito e poi venirli a ritirare qua O potete venire fino ad esaurimento scorte a ritirarli qui Vi prego di non mandarci delle mail iniziare a dire questa permuta o questo o quell'altro Perché non c'è possibilità in questo caso per questa promozione di permuta o di mail 5 sono i metri di cavo che vi regaliamo Quindi 2 metri e mezzo per lato Considerate che più o meno è la misura standard Quindi non avrete assolutamente problema Amplificatore 420 euro per il bundle Il pacchetto ripeto diffusori in omaggio Questi ragazzi quando vi stancate Ci riprendete i soldi Ve lo garantisco Li mettete su subito Li mettete dove volete E ci riprendete i vostri soldi Io spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Promo su cui ci crediamo Abbiamo lavorato tanto Vediamo se vi piacerà E noi vi aspettiamo Al prossimo video Alla prossima promozione E sul nostro sito per acquistare questo pacchetto Black Friday Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima